ciao mi dici sto provando delle cuffiette metto in pausa me la posso mettere in pausa pure direttamente toccando qua col touch tocco e parte tocco metti in pausa ok allora innovazione c'è il touch innovazione c'è bluetooth innovazione c'è il suo 85 per poter riporre le cuffie dopo averle usate ascoltate suonano perfettamente quindi non avevo dubbi sulla qualità del suono addosso praticamente ti dimentichi di averle quindi potrebbero essere molto comode per chi deve stare lunghi periodi con le cuffie e per chi ama stare lunghi periodi con le cuffie per rimetterle via vi faccio vedere si prende si mette via dentro che c'è una calamita e automaticamente si vanno a mettere in carica si chiude anche in questo caso con una calamita e si ricaricano da questa parte le caratteristiche innovative di queste cuffie ma adesso poi vi faccio vedere il video dell'unboxing dove vi ripeto questa cosa ma proprio velocemente sono che hanno la possibilità di ricaricarsi ben quattro volte avere tre ore di autonomia ogni volta quindi facciamo tutta l'intera giornata con queste cuffie hanno il bluetooth 5.0 più stabile più veloce con una connessione che ha una gettata più lunga rispetto alle versioni precedenti e di bluetooth il fatto che hanno il touch e il fatto che sono di alta qualità che sono di alta qualità quindi questa è diciamo la nuova frontiera delle cuffiette portatili ma adesso vi faccio vedere l'unboxing ciao mi dici scarta la carta scarta la carta mille accendini facci sognare ragazzi già tolte le pellicoline e andiamo a vedere il contenuto della confezione andiamo a recensire due auricolari con la sua scatoletta power bank che permette di ricaricare gli auricolari quando non li stiamo utilizzando andiamo a vedere il contenuto completo della scatola che contiene oltre al cavo di alimentazione infatti andavo sul sicuro anche le cuffie per adattarli a padiglioni auricolari più piccoli più grandi quelli che vengono indossati di serie sono i medi e quelli che in genere vanno vanno bene a tutti quanti allora quando noi rimettiamo questo all'interno praticamente gli facciamo fare contatto e quindi da lì riprende la corrente per ricaricarsi e mentre non lo usiamo lo possiamo ricaricare per bene quattro volte ogni volta li possiamo utilizzare mi sembra per tre ore questo fa sì che avremmo la possibilità di usarli un'intera un'intera giornata usiamo rispondiamo al telefono la qualità delle chiamate è molto alta la musica è perfetta è come come avere delle cuffie grandi semplicemente sui bassi ci si rende conto che non 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 si può avere una prestazione proprio al top sui bassi ma per il resto sono cuffie con qualità ai massimi livelli si vede anche dalle recensioni di amazon che su 400 recensioni quindi non su una o due che possono essere falsate ma su 400 è difficile e si ha ben oltre il 50 per cento di 5 stelle il 66 per cento di 5 stelle qui abbiamo i comandi touch ecco un'altra delle cose che vanno di più in questo nuovo tipo di cuffie è aver tolto il tasto fisico e aver messo il tasto touch quindi se ci chiama al telefono tocchiamo in questo modo scorrendo il dito e andiamo a rispondere alla telefonata o se no mettiamo in pausa la canzone così usando il metodo touch l'altra caratteristica forse probabilmente tra quelle che vi ho detto adesso è quella più innovativa proprio perché la tecnologia è più nuova è che adotta lo standard bluetooth 5.0 cosa vuol dire vuol dire che rispetto ai bluetooth precedenti sarà una connessione molto più veloce sarà una connessione molto più stabile e soprattutto sarà una connessione che coprirà distanze maggiori questo fa sì che se all'interno di casa a volte perdevamo il segnale quando ci spostavamo che ne so al bagno il telefono si trovava in salotto questo col bluetooth 5.0 non succede più perché si copre si copre una superficie molto maggiore